Tassa d'imbarco e approdi. Queste le tematiche al centro della lunga riunione che ieri mattina si è svolta in prefettura Salerno e presieduta dal prefetto Francesco Esposito. Un tavolo tecnico richiesto dalla compagnia di navigazione Travelmar per provare a trovare una soluzione alle questioni che mettono in crisi il sistema di collegamento via mare tra il porto di Salerno e la Divina. Al primo posto la tassa d'imbarco, pari ad 1,50 euro, istituita dal comune di Salerno per i passeggeri che si imbarcano in città e poi anche il regolamento per gli accosti varato dalla Capitaneria di Porto. Il comune di Salerno si sarebbe detto disposto a venire incontro agli utenti, con la possibilità di calcolare una tassa d'imbarco differenziata rispetto ai porti di arrivo e aiutare poi i residenti che lavorano in costiere ed utilizzano le vie del mare per muoversi, previo assenso del MEF. Presenti alla riunione diversi sindaci della costiera amalfitana, l'assessore al bilancio del comune di Salerno Eva Vossa, la Capitaneria di Porto, i rappresentanti della Travelmar ed il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone. Oggi al tavolo sono emerse queste ipotesi, sia questa sia quella di dare un minimo di sostegno ai residenti salernitani che si muovono via mare perché va favorito il trasporto via mare proprio per decongestionare la costiera il più possibile. Quindi ci sta discutendo, il comune ha dato massima disponibilità, ovviamente ha chiarito che le sue scelte dipendono anche da quello che il MEF autorizza rispetto a questa normativa delle tasse d'imbarco, ma ci lavoreremo per trovare una soluzione tutti insieme. Il tema degli accosti è un tema molto particolare perché ovviamente prevale la sicurezza a mare che è competenza della Capitaneria e quindi su questo abbiamo, uso un termine, delle rigidità che sono motivate dalla sicurezza. Abbiamo spiegato in tutti i modi che il problema della sicurezza non riguarda solo a mare ma riguarda anche a terra perché se noi abbiamo tantissime persone su un porto il problema non è solo quante navi riescono a traccare ma è come smaltiamo le persone che abbiamo su questi porti in determinate giornate e in porti particolarmente piccoli, penso per esempio a Positano. Quindi sono delle riflessioni da fare a 360 gradi, non solo preoccupandosi delle problematiche legittime che si hanno a mare ma anche quelle che si hanno a terra.